Non è un'ascia, non è un cortello, è diablo. Versati l'attrezzo ed originale attrezzo da lancio, ora lo lancerò da 5 metri. Non è un'ascia, non è un'ascia. Non è un'ascia, non è un'ascia, non è un'ascia, non è un'ascia. Diablo, da 8 metri. Non è un'ascia. Non è un'ascia. Non è un'ascia. Non è un'ascia.